Spadaccini, sciabolatori e fiorettisti di tutto il mondo chiamati a raccolta nella città eterna per dar vita allo spettacolo degli internazionali di scherma della capitale Exotrofeo Città di Roma. La chermesse sportiva coinvolgerà complessivamente oltre 350 atleti provenienti da tutta Europa e non solo. Ad ospitarli saranno le pedane allestite sul palco del centro tecnico della Federbocce nel quartiere Eurtorrino. La manifestazione valida come tappa italiana del circuito europeo Under-23 di fioretto maschile e femminile, sciabola maschile come quarta prova nazionale di scherma paralimpica è stata presentata in Campidoglio. Ci avremo quattro manifestazioni a livello internazionale con la sciabola femminile che fa parte del circuito della Coppa del Mondo a tutti gli effetti, mentre le prove di sciabola maschile, di fioretto maschile e femminile invece fanno parte del circuito europeo e sono valide per il circuito dell'Under-23. Poi nel contesto di questa manifestazione avremo la domenica anche la quarta prova nazionale del Paralimpico che è la prova che qualifica poi per gli assoluti di Torino. Sono molto legato a questo torneo perché l'ho vinto due volte e poi perché si svolge a Roma che è la mia città adottiva e di conseguenza spero di portare a casa il titolo anche quest'anno e ce la metterò tutta. Bisogna avere tanta voglia di vincere, il giusto rispetto ma anche un po' di sfacciataggine nel voler provare a battere tutti i costi a partire da Cassaras, Promonte e Baldini. È una grande opportunità e una conferma di quanto fatto in passato alla luce del successo ottenuto nella passata edizione di questo evento. La prova provata è che in questa federazione si creano le condizioni per far crescere i giovani perché credo che mai in nessun momento bisogna dimenticare la missione di una federazione che è quella di mettere nelle migliori condizioni gli atleti che attualmente rappresentano il top ma senza mai trascurare quello che è il vivai o quello che è il futuro. Questa grande iniziativa di scherma è un'iniziativa importantissima nella quale Roma è orgogliosa di esserci, di starci dentro perché è uno sport nobile e che vogliamo anche raccontare alle nostre scuole attraverso il piano d'offerta formativa che stiamo scrivendo insieme alle varie federazioni pertanto anche con la federazione scherma.